siccome ultimamente ci stiamo impigriando parecchio oggi abbiamo deciso di andare a fare una piccola uscita io e Marchetto lo sto andando a recuperare in quel di Cernieu la temperatura oggi è proibitiva senza altro meno però contiamo di fare comunque in un paio d'ore un bel giretto si pensava di andare a Porzus e scendere magari nella vallata poi di racchiuso il Porzus di H a basso a sinistra adesso vediamo questo è l'attacco è l'attacco che conosco io questi ci sei Marchetto dai che non c'è non c'è né fango e né neve ecco ti sei visto che ti sei visto che io vado giù di qua perché qua non c'è neve perché la traccia sarebbe di là andiamo giù vicino al Pollitto bisogna go down ok ok sei 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 sottotutto sei stиту sei di qua è peggio di qua è peggio di qua è peggio hai avanti tu che hai il casco dai avanti tu che è il cavo sta ricolosa come si faccio? come si faccio? come si faccio? saltalo saltalo ah si ti sei fidato di quell'appoggio lì buine ha fatto anche il jump buona marchetto bravo 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 via 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 si attraversiamo la strada dopo giù sotto no non ho mai fatto il troia è questo il troia è questo il troia è questo il troia è questo che spettacolo raga e tu che sai dove sei? non è fragile porzus qui c'è il porzus non è spresso che hanno veicolato con le moto però sono passate le moto ma bravi come un vero dia qui sta come un vero dia qui sta tu esi tu esi al fine è l'uscita? oh mio dio è così wow hai visto che uiffata? cos'è qua? cos'è qua? hopla si si vai ma non davanti io dai vai 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 che sei sotto la mia responsabilità lì qua sono andato giù dritto io ma se faccio si bravo oppla questo è il dh a basso sinistra il porzus dh a basso sinistra ma sì credo di sì taglia taglia è un po' bravo ha detto che c'è qualche step qualche step che una volta erano più duri poi erano un po' sistemati ma tu li fa piano 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 senza i buchi buone c'è una rampa fattibile solo il primo quarto forse neanche quello io sei arrivato in casa prova e tu se fai di meglio cazzo fai di meglio si hai fatto di meglio eh ciao Grazie a tutti Forse sì, forse no Non provare Super Sì, buono Non l'è facile Non l'è facile Non l'è facile La salita del carrozziere Non dovevamo farci mancare un po' di spingismo È vero? Quindi non ci voleva secondo me Non l'è facile La salita del carrozziere La salita del carrozziere La salita del carrozziere La salita del carrozziere È bello Bellino no? Con questo terreno qua è stato sempre bello Veramente piacevole Di provare a fare tutto quello che vuoi È bello